Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per fare un altro ennesimo episodio sulla fotografia di interni. Un genere fotografico che ormai esiste da diversi anni e mai come in questi ultimi tempi è trending topic. È infatti grazie alla rivoluzione digitale che questo particolare genere fotografico ha conosciuto la sua massima popolarità. Stiamo parlando di un settore che una volta vedeva coinvolte semplicemente le abitazioni dei ricchi. Infatti erano solamente le famiglie più ambienti che potevano permettersi di destinare delle risorse all'avere un fotografo che fotografasse gli interni della propria abitazione. Oggi a molti di voi potrà sembrare perfettamente normale avere un fotografo per casa che si accinge a fotografare gli ambienti e questo può servire per molteplici scopi. Il fotografo di interni viene chiamato dai privati in caso di ristrutturazioni o in caso si voglia vendere o affittare l'immobile. Può essere contattato da strutture alberghiere nel caso ci sia per esempio una ristrutturazione importante e quindi si desideri o documentare lo stato precedente ai lavori oppure comunicare lo splendore dell'avvenuto rinnovamento della struttura. Una cosa che purtroppo non capita molto spesso è quella di essere contattati direttamente dall'architetto. Quando è un architetto che contatta il fotografo per avere un servizio fotografico di interni c'è da sfregarsi le mani perché gli architetti solitamente pagano di più per un lavoro fatto bene ma che teoricamente prende meno tempo rispetto a un lavoro per esempio per un albergo perché quando andiamo a fotografare una struttura per un architetto probabilmente gli scatti saranno di meno. Quando andiamo a fotografare una struttura per un albergo dovremo fotografare probabilmente ogni singola stanza. Come dicevo questo genere fotografico vede oggi nel 2022 in particolare ma in questi anni in generale la sua massima diffusione. Se fate un rapido giro esplorativo su social network come Instagram o Pinterest vedrete che è sufficiente inserire le parole chiave giuste come per esempio interior design o interior photography per vedere la propria bacheca letteralmente invasa da piccoli capolavori della fotografia di interni e del design di interni e ovviamente man mano che cresce l'interesse per un particolare settore fotografico cresce anche l'impegno e la tecnica da parte dell'operatore del fotografo in questo caso per portare a casa dei risultati che siano di qualità via via sempre più alta. Oggi parleremo proprio di questo vi voglio raccontare come si svolge uno shooting fotografico di interni e quali sono un po di trucchetti che ci permettono di portare a casa delle immagini che faranno rimanere il nostro cliente con la bocca spalancata. Partiamo dalla fotocamera che so che è l'argomento che ha molti premi di più. Non esiste un tipo di fotocamera migliore delle altre e soprattutto non esiste un brand migliore degli altri. Le fotocamere non dico che siano tutte uguali perché in realtà sono tutte diverse però non esiste una fotocamera in particolare che io raccomando per fotografare interni. C'è da dire una cosa però io raramente come saprete tesso le lodi delle fotocamere con sensore full frame perché per quanto mi riguarda questa era una distinzione full frame contro APS-C contro micro 4 terzi e che dirsi voglia. È una distinzione che aveva senso anni fa, aveva senso quando il gap tra questi tipi di sensori era considerevole. Al giorno d'oggi una fotocamera APS-C, una micro 4 terzi produce delle immagini eccezionali che sono assolutamente equiparabili a quelle che escono da una fotocamera con sensore full frame. Allora perché in questo particolare caso io consiglio in particolar modo una fotocamera full frame? Beh per il rapporto tra il sensore e la lente. Infatti nel momento in cui fotografiamo interni avremo un grosso vantaggio nel poter utilizzare il grandangolo. Più grandangolo abbiamo più siamo avvantaggiati nel fotografare interni perché le stanze possono non essere grandissime, gli spazi possono essere ristretti e ovviamente se fotografiamo in un ambiente ristretto avremo difficoltà a far spaziare la nostra vista, a cogliere un angolo di campo sufficiente per raffigurare quell'ambiente in maniera corretta. Ecco che una fotocamera full frame ci aiuta perché laddove mettiamo un 16 mm per esempio sulla nostra fotocamera avremo effettivamente 16 mm mentre invece se stessimo usando un sensore apsc andando a montare un 16 mm avremo una lunghezza focale che viene moltiplicata per 1,5 per 1,6 a seconda della casa produttrice della fotocamera che stiamo utilizzando. Quindi in questo particolare caso me la sento di dire che la fotocamera full frame è assolutamente consigliatissima. Sconsiglio di utilizzare fotocamere apsc o micro 4 terzi a meno di non avere delle lenti dedicate, delle lenti fatte apposta, quindi delle lenti che abbiano una lunghezza focale equivalente che ci permettono di recuperare quel rapporto tra lente e sensore in maniera tale da avere un grande angolo quantomeno decoroso. Mi viene in mente per esempio il 10-22 di Canon, è una lente molto molto carina per apsc che ci permette di recuperare l'angolo di campo equivalente del 16-35 mm più o meno. Se riusciamo a stare su un rapporto lente sensore che ci dia un angolo di campo equivalente al 16 mm è molto probabile che riusciamo a portare a casa qualcosa di buono. C'è anche da dire che il vantaggio della full frame non si ferma qui perché ovviamente una lente full frame è più bella di una lente apsc. Sono lenti costruite meglio, costruite progettate per la fascia alta, per la fascia professionale, quindi costano di più e rendono di più. Quindi nel momento in cui utilizziamo una full frame con un bel 16-35 per esempio, dico 16-35 perché la lunghezza focale che piace a me potrebbe anche essere un 17, potrebbe essere un 24, qualunque grandangolo stiamo utilizzando, una lente progettata per un sensore full frame sarà sempre più bella di una lente progettata per un sensore apsc. Quindi non è tanto il sensore che ci farà la differenza ma è la lente che andiamo a montare su quel sensore e il rapporto che quella lente ci dà perché sul sensore full frame noi abbiamo il rapporto corretto. Quindi se stiamo usando un 16 avremo effettivamente un 16 e un 16 di qualità. Invece se stiamo usando un corpo apsc noi non possiamo montare il 16 di qualità perché dobbiamo montare il 10-22 e quindi avremo una qualità inferiore ma è per colpa della lente più che per colpa del sensore perché il sensore ormai performa quasi uguale. Ecco però che in questo caso specifico io me la sento di consigliare un sensore full frame proprio per questo motivo perché andremo a lavorare meglio, riusciremo a utilizzare meglio il nostro grandangolo, non utilizzeremo tanto il teleobiettivo durante uno shooting di interni a meno di non voler fare qualche dettaglio ma sarà al più delle volte poca cosa perché noi dobbiamo rendere quello che è l'ambiente nel suo insieme più che un singolo dettaglio per cui grandangolo tutta la vita full frame tutta la vita. Per quanto riguarda le impostazioni della fotocamera sono abbastanza standard nel senso che per ovvi motivi vogliamo lavorare con gli ISO più bassi possibile terremo tendenzialmente ISO tra 100 e 400 questo per un motivo. ISO 100 probabilmente è la sensibilità minima che la nostra fotocamera ci mette a disposizione. Qualche fotocamera magari qualche Nikon di fascia alta ha ISO 50 però facciamo conto di usare ISO 100 tanto non è che cambi poi così tanto se avete ISO 50 usatelo pure ma diciamo che stiamo tra 100 e 400. Perché vi dico tra 100 e 400? Prima di tutto perché sopra 400 cominciamo ad avere del rumore ed è un peccato avere del rumore in un genere fotografico come questo dove lo possiamo evitare molto molto facilmente. In secondo luogo 400 ISO è una sensibilità che molto spesso è quella nativa di alcune fotocamere full frame per cui scattare ISO 400 può dare dei vantaggi nel senso che potrebbe consentirci di tirare fuori delle immagini con una gamma dinamica anche superiore di quella che abbiamo a ISO 100. Ovviamente dipende dal modello che stiamo utilizzando. Io molto spesso utilizzo ISO 100 semplicemente per buona norma perché sono pigro e perché non ho voglia di ricordarmi qual è la sensibilità nativa di tutti i corpi macchina che utilizzo quindi se non volete ricordarvelo andate pure a ISO 100 che tanto va benissimo. Se volete fare i pignoli potete andare a vedere qual è la sensibilità isonativa migliore della vostra fotocamera e impostare quella. Ovviamente a seconda della scena il diaframma potrebbe variare lievemente però io me la sento di dirvi che soprattutto in fotografia di interni a meno di non avere di fronte delle scene molto particolari utilizzeremo sempre un diaframma che va da f8 a f11 non di più e non di meno. Il motivo è semplicissimo. Intanto tra f8 e f11 utilizziamo lo sweet spot della nostra lente. Quale che sia la nostra lente è molto probabile che lo sweet spot sia esattamente in quella frazione. Ora lo sweet spot sostanzialmente è un punto magico all'interno del diaframma della nostra lente in cui la nitidezza è massima. Ovviamente non avremo la massima nitidezza a tutta apertura quindi a f4 se la nostra lente è da f4 a f2.8 se la nostra lente è da 2.8 non sarà la nitidezza massima così come non sarà la nitidezza massima a f16 perché lì cominciamo ad avere problemi di diffrazione non vi dico a f22 lì l'immagine diventa molto morbida invece a f8 tra f8 e f11 abbiamo la massima nitidezza possibile lungo tutto il nostro fotogramma quindi non solo nel centro ma anche sui bordi quindi andiamo a privilegiare lo sweet spot e utilizziamo f8 inoltre f8 dovrebbe consentirci di mantenere tutto il nostro fotogramma a fuoco ovviamente questo è un genere fotografico che si presta poco all'interpretazione artistica quindi non vogliamo gli sfocati non vogliamo la parte davanti a fuoco e lo sfondo fuori fuoco vogliamo tutto ugualmente a fuoco deve somigliare a un render una fotografia di questo tipo quindi cerchiamo di mantenere tutto il più a fuoco possibile a questo proposito teoria interessante è quella dell'iperfocale teoria che non mi vede molto d'accordo perché l'iperfocale esiste e funziona esistono svariati video su youtube che spiegano di che cosa si tratta ve la riassumo in soldoni e non è una cosa che padroneggio perché è una tecnica che io non utilizzo però fondamentalmente l'iperfocale è una teoria secondo la quale teoria verificata esatta per carità ora la teoria dell'iperfocale ci dice che se io mi metto in questa posizione e metto a fuoco in questo punto quello che succederà è che io avrò la profondità di campo che si estenderà da qui fino a un pochettino più indietro quindi avrò un po di profondità di campo davanti al mio punto di messa a fuoco e un po tanta profondità di campo dietro al mio punto di messa a fuoco teoria dell'iperfocale dice semplicemente questo che a seconda del diaframma la distanza tra il punto dove comincia a essere a fuoco e il punto dove smette di essere a fuoco può essere calcolato questo che cosa significa significa che in base al diaframma e alla distanza a cui io vado a mettere a fuoco sono in grado di sapere in anticipo fin dove si estenderà la mia messa a fuoco perché vi dico che questa è una cosa che io non padroneggio e che non utilizzo semplicissimo perché la teoria dell'iperfocale ci dice che questa distanza è di tot però ci dice che per avere quella distanza di tot dobbiamo mettere a fuoco a una certa distanza ora nel momento in cui siamo in interni e stiamo fotografando interni noi non possiamo decidere a che distanza mettere a fuoco perché la distanza della messa a fuoco è stabilita dagli spazi che stiamo fotografando quindi la teoria dell'iperfocale per quanto mi riguarda è completamente inutile quando stiamo fotografando interni perché presupporrebbe che noi ci spostassimo indietro fino a raggiungere la distanza giusta per avere tutto a fuoco questo noi non lo possiamo fare per cui io vi dico questa cosa scattiamo a f8 se abbiamo dei dubbi scattiamo f11 non andiamo oltre f13 mai perché altrimenti mostriamo il fianco alla diffrazione l'immagine diventa troppo morbida non ci preoccupiamo eccessivamente di riuscire ad avere tutto a fuoco perché se non ci riusciamo a f11 vuol dire che la nostra scena è particolare ma la maggior parte delle volte ci riusciremo invece se stiamo usando un grandangolo ovviamente se stiamo usando un 85 mm sarà tosta però se usiamo un grandangolo siamo facilitati un grandangolo un 17 mm un 16 mm anche un 24 mm a f11 dovrebbe consentirci di avere la nostra immagine a fuoco così come la vogliamo quindi non stiamo a preoccuparci della distanza iperfocale perché ci andrebbe a sballare tutto è una cosa che si può utilizzare molto meglio per quanto riguarda il paesaggio anche se io non la uso neanche lì perché sono molto più fan della tecnica del focus stacking quindi io mantengo il mio diaframma f8 faccio una foto per il primo piano una foto per lo sfondo e una foto per l'infinito se proprio devo faccio più foto per avere la messa a fuoco su più foto e poi le vado a miscelare in post produzione ma in questo modo non rinuncio a niente perché ho sempre il mio diaframma corretto e ho sempre la messa a fuoco dove la voglio io invece con l'iperfocale dovrei fare un sacco di compromessi per mettermi alla distanza giusta in maniera tale da avere la profondità di campo che si estende fino a dove voglio io ma con il risultato oltretutto che sarebbe morbida ovunque la mia messa a fuoco invece con il focus stacking riesco ad avere una messa a fuoco precisa e pulita in ogni punto della mia foto lo faccio a mano sostanzialmente non vi preoccupate perché per quanto riguarda la fotografia di interni io non lo faccio mai vi sconsiglio di farlo perché ce la si cava senza abbiamo parlato di diaframmi abbiamo stabilito che si va da f8 a f11 sempre senza preoccuparsi eccessivamente di dove sia la messa a fuoco mettiamo a fuoco tranquillamente con la modalità automatica della nostra fotocamera dovrebbe essere più che sufficiente pressoché con qualunque condizione di illuminazione abilitiamo magari il focus beam se è disponibile sulla nostra fotocamera la luce assist che aiuta a mettere a fuoco se non è disponibile sulla nostra fotocamera possiamo pensare di montare un flash e di metterlo in modalità off ma il focus beam funzionerà lo stesso quindi anche se diciamo al flash di non scattare la luce pilota la luce assist per mettere a fuoco ci verrà in soccorso anche in questo caso veniamo all'ultimo parametro della nostra esposizione che sono i tempi di scatto ora abbiamo stabilito i nostri iso abbiamo stabilito il nostro diaframma vi rendete conto ovviamente che se scattiamo in interni al chiuso con iso 100 f11 la nostra foto è un po' buia per cui andiamo a risolvere il problema nell'unico modo possibile e anche nel più semplice utilizzando un treppiede perché se noi mettiamo la nostra fotocamera su un treppiede improvvisamente possiamo dilatare i tempi di scatto quindi se a mano libera non saremmo riusciti a fare quella foto perché iso 100 f8 avremmo dovuto fare magari 0 3 secondi di posa a mano libera ci sarebbe venuta mossa ma sul cavalletto noi possiamo dilatare i tempi e possiamo fare magari 5 secondi di posa possiamo fare il tempo in base alla luce che abbiamo di fronte perché gli iso e il diaframma ve lo dico io sono quelli però il tempo varia a seconda della scena che abbiamo di fronte per cui abbiamo un range che va da un sessantesimo di secondo se la scena è molto luminosa ma anche di più perché se ci sono ampie vetrate magari può anche essere necessario usare un duecentesimo invece se siamo in interni un pochettino più scuri possiamo dilatare i nostri tempi di scatto fino a 30 secondi non direi di andare oltre i 30 secondi perché di solito non è mai necessario con una posa da 30 secondi si fotografano paesaggi notturni quindi non c'è bisogno secondo me massimo arriviamo ai 10 secondi comunque bisogna fare dei test degli scatti di prova perché questo è empirico e dipende proprio dalla scena che abbiamo di fronte l'esposimetro interno alla fotocamera ci aiuta ovviamente se l'abbiamo impostato correttamente siamo in grado di avere una lettura quantomeno parziale della scena e stabilire se dobbiamo sovraesporre o sottesporre ovviamente facciamo uno scatto di prova ci rendiamo conto di come è venuto e a quel punto siamo in grado più o meno di stabilire se dobbiamo salire o scendere con i tempi in base alla scena che stiamo fotografando dico di utilizzare il treppiede proprio per questo motivo perché così siamo in grado di dilatare i tempi e quello che io sento spesso dire a tanti miei colleghi è sì bisogna usare il treppiede perché è più professionale bisogna usare il treppiede perché viene meglio però non arrivano mai a spiegare il vero motivo per cui viene meglio che è proprio questo io potrei fare la stessa identica foto anche senza il treppiede perché se io mi metto lì nella stessa identica posizione e gestisco i parametri in un altro modo per esempio io dico ok sono in interni ed è abbastanza buio quindi faccio un po fatica però io metto iso 1000 metto f4 o f2 anche se ce l'ho e poi regolo i tempi di conseguenza magari metto un sessantesimo di secondo e così ce la faccio a portarmi a casa la mia foto però che cosa è successo io la foto l'ho fatta lo stesso perché la foto me la sono portata a casa però non l'ho fatta nel modo migliore possibile perché ho usato una sensibilità iso molto alta quindi avrò i colori che se ne vanno un po per i fatti loro avrò una gamma dinamica diminuita perché alzando gli iso diminuisce la sensibilità dinamica del nostro sensore avrò un'immagine con tanto rumore e avrò un'immagine che non avrà la profondità di campo necessaria perché avrò dovuto aprire il diaframma quindi perché è vero che i professionisti dovrebbero usare il cavalletto per questo motivo perché usare il cavalletto ci mette in condizione di utilizzare tutti e tre i parametri dell'esposizione a nostro vantaggio non uno solo nel momento in cui scattiamo a mano libera stiamo usando gli iso a nostro vantaggio è un pochino il diaframma ma se noi invece li usiamo tutti e tre per concorrere realizzare la foto esattamente come la vogliamo il risultato finale sarà molto migliore e il lavoro del professionista spesso è proprio questo sapere quella cosa sapere che deve fare quella fatica in più portarsi dietro quel treppiede in più farsi quello sbattimento in più per carità perché deve mettersi lì mettersi in posizione stare fermo e ci si mette di più con il treppiede intendiamoci io potrei entrare dentro nello spazio che devo fotografare run and gun pam 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 fare le mie foto ho già finito e me ne esco ma non ho fatto la cosa migliore che potevo fare la cosa migliore che potevo fare era usare il treppiede e non solo perché il treppiede ci mette in condizione di fare anche un'altra cosa ovvero utilizzare il bracketing ora il bracketing è una tecnica molto molto semplice implementata all'interno delle nostre fotocamere quindi è una cosa ampiamente prevista dagli stessi produttori delle nostre fotocamere non è barare non è un magheggio non è photoshop quello che succede è che noi diciamo alla nostra fotocamera che non deve più realizzare un solo scatto ma ne deve realizzare tre o cinque o sette a seconda della nostra fotocamera a seconda di quanti step di bracketing ci consente di fare per esempio io utilizzo canon e la maggior parte delle fotocamere canon credo tutte anche mi consentono di fare tre step di bracketing questo che cosa significa significa che io imposterò la mia esposizione in un punto che per me è giusto e quanto più corretto possibile però la mia fotocamera andrà automaticamente a realizzare quel primo scatto che chiameremo lo scatto mediano dopodiché realizzerà uno scatto sottoesposto e uno scatto sovraesposto di quanto viene shiftata l'esposizione lo decidiamo noi in un range che va da due a tre stop quindi possiamo avere una fotografia che è centrata che è esposta correttamente e poi possiamo avere una fotografia più chiara e una fotografia più scura queste tre foto a cosa servono servono perché nel momento in cui noi ci troviamo a casa con le nostre tre foto possiamo miscelare queste tre esposizioni in post produzione in maniera tale da ricavare una fotografia che contenga le informazioni che nella foto mediana erano andate perdute nella foto mediana noi possiamo aver perso dei dettagli nelle alte luci per esempio negli spotlight o in una finestra aperta così come possiamo aver perso dei dettagli nelle ombre quindi nelle ombre dei mobili o in una zona particolarmente buia con la tecnica del bracketing noi catturiamo tutte le informazioni possibili sulla nostra scena catturiamo le alte luci e le ombre e siamo in grado di recuperare quei dettagli successivamente questo funziona perché siamo su cavalletto siamo su tre piede quindi la nostra camera è perfettamente ferma nel momento in cui la mia camera fa i suoi tre scatti le tre foto sono già perfettamente identiche perché la camera è ferma per cui io posso impilare le mie foto una sopra l'altra in post produzione e si allineano già perfettamente perché sono esattamente la stessa foto l'unica cosa che è cambiata sono i tempi non il diaframma perché la profondità di campo deve rimanere costante non gli iso perché il rumore non deve variare la gamma dinamica non deve cambiare saranno solo i tempi a variare quindi avremo tre foto identiche solamente che una sarà scattata con un tempo l'altra sarà scattata con un tempo maggiore l'altra sarà scattata con un tempo minore queste tre immagini messe insieme ci regaleranno una foto finale che sarà molto ma molto più bella rispetto a tutte e tre le nostre esposizioni prese singolarmente perché sarà la somma e quindi avrà una ricchezza tonale e dinamica aumentata espansa questa è una tecnica che ci permette di andare ben oltre quelle che sono le possibilità e le caratteristiche della nostra fotocamera ci permette di superare i limiti del nostro sensore digitale ovviamente questa per chi mi conosce è una tecnica che io amo moltissimo è una cosa che faccio molto spesso e vi dico che è una cosa che è possibile fare anche a mano libera io quando sono all'aperto quando mi sto godendo la giornata e magari vedo un bel paesaggio faccio uno scatto in bracketing a mano libera magari con una lente stabilizzata e dopo a casa con allinea automaticamente le immagini di photoshop riesco in qualche maniera a venirne a capo il movimento tra una foto e l'altra è minimo e l'intelligenza artificiale di photoshop riesce in qualche modo ad allinearle ma è un lavoro imperfetto infatti questo lo faccio quando sono in giro per i cavoli miei quando è un cliente che mi paga mi prendo la briga di usare il cavalletto perché così non c'è questo allineamento digitale in post produzione che mi fa perdere qualche pixel sui bordi dell'immagine mi fa perdere un po di qualità e un po di nitidezza se è una foto che ho fatto per me delle vacanze amen se è una foto che ho fatto per un cliente non voglio che ci sia questa pecca preferisco lavorare in scioltezze oltretutto non voglio dover andare in post produzione ad allineare le immagini quindi uso il mio cavalletto in maniera tale che le immagini siano perfette veniamo alla composizione delle immagini in realtà non ci sono grossi trucchi per quanto riguarda la composizione delle immagini in fotografia di interni l'unica cosa che dobbiamo tenere a mente è che dobbiamo pensare di stare scattando queste foto per un architetto anche se non ce le ha chieste un architetto anche se ce le ha chieste un cittadino comune che non capisce niente anche se ce le ha chieste il responsabile cieco di un albergo che sta per chiudere non ha la minima importanza noi dobbiamo sempre pensare che le nostre foto debbano rendere come se ce le avesse chieste un architetto e questo cosa significa ragazzi linee dritte questa è la cosa più importante in assoluto quando si va a realizzare la composizione per la fotografia di interni in particolare le linee verticali le linee orizzontali fa niente perché le geometrie orizzontali possono variare a seconda di dove ci posizioniamo nello spazio quindi è più che fattibile avere delle linee orizzontali che non seguono perfettamente i margini della nostra composizione ma le linee verticali invece devono essere perfettamente dritte questa sembra una cavolata ma in certi casi può rivelarsi un pochettino complicato innanzitutto come si fa a mantenere le linee verticali perfettamente dritte beh in realtà è molto semplice bisogna mantenere il piano focale della nostra fotocamera quindi banalmente il sensore deve essere perfettamente parallelo alle pareti nel momento in cui il sensore è parallelo alle pareti quello che catturerà sarà una linea dritta nel momento invece in cui noi andiamo a inclinare la nostra fotocamera verso l'alto o verso il basso l'effetto ottico che ne deriverà sarà quello spiacevole effetto delle linee cadenti quindi avremo le linee convergenti o divergenti a seconda se stiamo puntando verso l'alto o verso il basso questo è il più grave errore che possiamo fare in fotografia di interni perché ci farà additare come poco professionali da chiunque ne capisca anche solo un ciccini in più di noi è una cosa che è molto meglio evitare anche perché le fotografie vengono meglio se riusciamo a mantenere le linee dritte ora per mantenere le linee dritte abbiamo detto bisogna mantenere il piano focale perfettamente parallelo alle pareti però questo può creare un po di problemi perché se noi ci limitiamo a mantenere il piano focale quindi il sensore parallelo alle pareti e questo significa che la direzione della nostra lente del barilotto della nostra lente deve essere esattamente perpendicolare alle pareti banalmente quindi non è così difficile però che cosa succede nel momento in cui noi facciamo questo potremo avere un'inquadratura che non ci soddisfa potremmo avere una composizione che non funziona che non va bene perché magari taglia le gambe di un tavolo che può essere in mezzo alla stanza oppure taglia la parte superiore di un armadio che è invece è prominente nella stanza e quindi lo vogliamo prendere tutto per venire a capo di questo problema dal momento che noi dobbiamo mantenere la composizione in quella maniera c'è solo una soluzione ed è variare l'altezza della nostra fotocamera quindi noi la prima cosa che facciamo è che mettiamo la nostra fotocamera con il piano focale parallelo alle pareti e quindi con il barilotto perpendicolare alle pareti una volta che abbiamo fatto questo se dobbiamo inquadrare un tavolo quindi una cosa che poggia per terra andremo ad abbassare la nostra fotocamera se viceversa dobbiamo riprendere un grosso armadio un grosso mobile che arriva fino in alto andremo ad alzare la nostra fotocamera in questo modo mantenendo il piano focale perfettamente in linea con le pareti riusciamo ad avere l'inquadratura che vogliamo e a riprendere quello che più ci interessa senza andare a incorrere nel fastidioso fenomeno delle linee cadenti è una cosa assolutamente da tenere a mente perché ricordatevi che a nessuno piacciono le linee cadenti anche se un cliente non vi sa dire che cosa c'è che non gli piace in quella foto quando vede quelle linee tutte storte di certo non è contento e la soddisfazione dei nostri clienti purtroppo è l'unico mezzo mediante il quale possiamo procurarcene di nuovi di clienti quindi è molto importante sempre alla rincorsa della soddisfazione massima per i nostri clienti tuffiamoci nella post produzione andiamo a vedere che cos'altro possiamo fare per rendere le nostre foto ancora più perfette abbiamo visto che abbiamo scattato in bracketing quindi abbiamo scattato per la post produzione abbiamo fatto degli scatti già pensando che le avremmo miscelate che le avremmo toccacciate quindi abbiamo fatto i nostri tre scatti o più scatti io consiglio di farne tre e non di più non è necessario farne venti perché tanto una volta che abbiamo tre scatti se abbiamo fatto bene l'esposizione mediana l'esposizione mediana deve essere fatta bene ovviamente perché se è sbagliata quella poi non arriviamo al risultato che volevamo ma se abbiamo fatto l'esposizione mediana nel migliore dei modi avremo un'esposizione giusta e in più prenderemo dei dettagli da quella sovraesposta dei dettagli da quella sottoesposta e lì in qualche maniera la nostra immagine viene fuori in ogni caso una volta che noi andiamo a importare le nostre immagini nel computer e ovviamente do per scontato che abbiamo tutti quanti scattati in raw perché se scattiamo in raw avremo non solo una qualità maggiore al momento dell'import sul nostro computer ma avremo anche più possibilità di personalizzare le immagini in post quindi se vogliamo il risultato migliore possibile scattiamo sempre in raw soprattutto in fotografia di interni nel momento in cui le andiamo a importare sul nostro computer la primissima cosa che facciamo andiamo a selezionare un profilo colore io lavoro sulle piattaforme adobe e quindi di default mi viene dato il profilo colore adobe standard è un profilo colore che a me piace moltissimo perché è un profilo molto molto bilanciato che rende benissimo in una grandissima varietà di contesti per la fotografia di interni di solito va bene anche se esistono dei casi particolari in cui abbiamo magari dei controluce o comunque delle zone di gradiente delle zone di sfumature in cui preferisco optare per il profilo colore camera standard questo semplicemente perché il profilo adobe standard tende a gestire i colori in un certo modo magari andando a schiarire certe cose puntando molto alla carnagione ad avere dei colori giusti per l'incarnato delle persone si intende ovviamente l'incarnato del bianco caucasico perché è tarato su quello nel momento in cui fotografiamo interni non mi serve questa cosa quindi con camera standard io restituisco alle mie foto una visione che è più vicina alla realtà magari è meno perfetta ma è più vicina alla realtà in questo caso mi fa gioco perché preferisco che le mie foto siano realistiche in questo contesto visto che devono descrivere un ambiente quindi proviamolo ovviamente vediamo quale dei due casi viene meglio perché dipende da caso a caso dipende da cosa c'era nella foto cosa c'era nei nostri ambienti e quale camera abbiamo usato eccetera eccetera però facciamo questa prova almeno con questi due profili se vogliamo sperimentarne di più ovviamente ogni tentativo è bene accetto però io provo sempre almeno questi due per vedere quale dei due ha la resa migliore selezionare il giusto profilo colore all'inizio dello sviluppo digitale mi darà un sacco di vantaggi perché sto andando a influire sul risultato finale senza avere la minima caduta qualitativa quindi sto avvicinandomi a quello che voglio che sia il mio risultato finale senza distruggere neanche un pixel della mia immagine senza danneggiarla minimamente è molto importante fare questo step perché ci permette magari di arrivare già all'immagine quasi finita semplicemente con un passo senza aver perso assolutamente nulla in termini di qualità il secondo step che andiamo a realizzare sicuramente è la fusione hdr quindi andiamo a selezionare i nostri scatti realizzati in bracketing che saranno 3 2 5 quello che vogliamo andiamo a selezionarli andiamo a unirli in hdr quindi genereremo un file dng che sarà un file molto molto pesante se una foto singola normalmente pesa sui 20 23 mega un dng risultante dall'unione di tre foto può arrivare a pesarne anche 90 quindi sono file da maneggiare con cautela perché pesano veramente tanto una volta che abbiamo unito le nostre tre foto in hdr potremmo anche azzardarci a buttare via i tre scatti originali dobbiamo stare attenti ovviamente se abbiamo lavorato su tre piede le nostre foto sono allineate automaticamente e quindi possiamo buttarle via con un po più di tranquillità invece se abbiamo lavorato a mano libera cosa che infatti io sconsiglio la fusione hdr potrebbe aver generato degli artefatti nella nostra immagine quindi io consiglio di non buttare gli originali prima di essersi assicurati che non ci siano questi artefatti ci riguardiamo bene tutte le foto tutti i dng che abbiamo creato e verifichiamo che non ci siano artefatti perché se ci sono artefatti dobbiamo rifare la fusione cambiando qualche parametro in maniera tale da evitare che si formino cose indesiderate pixel che saltano colori che si sovrappongono sci e fantasma o cose di questo tipo questo è molto importante anche se in fotografia di interni dovrebbe essere tutto immobile quindi probabilmente non useremo la funzione ghosting quindi probabilmente non ci saranno artefatti di sorta il prossimo step consiste nell'utilizzare il pannello geometri che si trova sia all'interno di photoshop camera raw sia all'interno di lightroom ci permette sostanzialmente di rendere ancora più perfette quelle linee verticali perché è vero che siamo stati attenti in fase di scatto però è difficile guardando dentro nell'oculare rendersi conto se siamo perfettamente allineati soprattutto se stiamo utilizzando una fotocamera che magari non ha una copertura del 100% dal viewfinder e dall'oculare molti modelli hanno una copertura del 97% per cui magari ci sfugge fin dove arriva il nostro frame ecco che in post produzione possiamo andare a perfezionare queste linee con il pannello geometri possiamo semplicemente tracciare due linee all'interno della nostra foto e queste due linee che noi tracciamo diventeranno perfettamente verticali perfettamente parallele quindi è una funzione molto molto utile che ci permette di rendere perfette le nostre foto con il minimo sforzo ovviamente dobbiamo fare attenzione in fase di scatto perché se abbiamo sbagliato di poco la correzione sarà perfetta e non genererà nessun problema se abbiamo sbagliato di tanto invece la nostra foto verrà deformata parecchio e quindi avremo una caduta qualitativa importante una perdita di pixel importante per cui cerchiamo di scattare meglio possibile in camera e molte volte non dovremo nemmeno farlo questo passaggio del pannello geometri un'altra cosa che potremmo voler fare è eliminare eventuali lens flare eventuali luci parassita che potrebbero esserci all'interno dei nostri scatti tenete conto che questi effetti sono carini se stiamo fotografando un matrimonio se stiamo facendo una fotografia a una coppia magari al parco con il sole dietro può essere un effetto carino in fotografia di interni non lo è quasi mai perché sembra un errore sembra una cosa non voluta di fatto non è una cosa voluta è una cosa casuale e quindi cerchiamo di mitigarla quanto più possibile magari non riusciremo a eliminarla 100% però possiamo per esempio con i pennelli correttivi al volo andare a eliminare queste imperfezioni quanto più possibile in modo da presentare un lavoro che sia privo di imperfezioni di questo tipo per quanto riguarda lo sviluppo digitale possiamo andare a modificare le alte luci le ombre l'esposizione in maniera tale da avvicinarci il più possibile a quella che è la nostra visione tenete conto che in fotografia di interni il nostro obiettivo è realizzare una fotografia con basso contrasto quindi proprio come nel cinema non vogliamo una fotografia sparata con le luci molto brillanti e le ombre molto scure non vogliamo una cosa artistica non vogliamo una foto evocativa vogliamo una foto descrittiva quindi ci devono essere tutte le informazioni sia nelle alte luci sia nelle ombre i neri non devono essere perfettamente neri i bianchi non devono essere perfettamente bianchi deve essere un'immagine a contrasto basso in maniera tale che si vedano le informazioni in tutte le aree della nostra fotografia è un esercizio di stile che all'inizio può risultare un po difficile perché tutti sappiamo benissimo che appena mettiamo una foto su instagram track più 100 per cento di contrasto e ci sembra subito più bella ecco qui dobbiamo fare il contrario e se lo facciamo ci renderemo conto che sbagliavamo prima perché una fotografia a basso contrasto ha molta più classe di una fotografia ad alto contrasto è molto facile sparare sul contrasto è molto difficile realizzare una bella fotografia a basso contrasto quindi concentriamoci su questo aspetto perché in fotografia di interni è necessario se è per quello il fatto di scattare in bracketing serve proprio a questo un'immagine scattata singolarmente è più contrastata rispetto a un'immagine hdr risultante dalla fusione di tre immagini quindi nel momento in cui noi andiamo a fondere le tre immagini del bracketing stiamo abbassando il contrasto stiamo alzando la gamma dinamica stiamo abbassando il contrasto quindi andare poi a lavorare sul contrasto non ci fa gioco anzi io cerco di abbassarlo il contrasto quindi vado a abbassare le alte luci e alzare le ombre in maniera tale da avere una foto più equilibrata e bilanciata possibile tanto poi a tirare il cursore del contrasto si fa sempre in tempo però al nostro cliente che ha chiesto un servizio fotografico di interni noi dobbiamo dare l'immagine più piatta possibile piatta passatemi il termine perché comunque non deve essere un'immagine grigia smorta deve essere un'immagine con una colorimetria decente ben calibrata con dei colori anche vibranti se effettivamente c'erano dei colori vibranti nella stanza però deve essere un'immagine con cui il nostro cliente possa lui sbizzarrirsi a usare il contrasto questo si tenete a mente questo come parametro deve esserci margine affinché il cliente possa modificare egli stesso il contrasto della foto questo è un buon punto di partenza arriviamo alla fase finale che è quella dell'export una volta che abbiamo terminato la nostra post produzione siamo pronti per esportare le immagini normalmente si esportano le immagini in jpeg a 8 bit con un profilo colore che potrebbe essere adobe rgb 1998 ma potrebbe anche essere srgb se siamo sicuri che verranno utilizzate solamente per fini web adobe rgb 1998 glielo diamo invece se devono essere stampate o se noi stessi le dobbiamo stampare altrimenti srgb va benissimo sto sperimentando di recente il profilo colore display p3 che per molti applicativi web da dei risultati migliori rispetto srgb ma potrebbe avere ancora qualche problema di compatibilità con qualche device con qualche piattaforma quindi da usare perché è migliorativo ma con cautela e nel caso comunque chiedere al cliente che cosa preferisce è pur sempre vero che in certi casi particolari possiamo esportare i file in psd oppure in tif se sappiamo che dobbiamo lavorare ulteriormente le immagini all'interno di photoshop quindi per perdere meno informazioni possiamo esportare in psd a 16 bit così non andiamo a ridurre a 8 bit che è un'operazione dalla quale non c'è ritorno rimaniamo a 16 bit durante le fasi di lavorazione poi andiamo a esportare in 8 bit solamente al momento della consegna per la cronaca le immagini che vi ho fatto vedere durante questo video vengono quasi tutte da uno degli ultimi shooting di interni che ho fatto che si è svolto a milano a metà del mese di giugno ed è uno shooting per uno showroom adibito alla vendita di cucine questo è il tipico caso in cui viene richiesto un servizio fotografico di interni lo showroom che viene rinnovato e quindi viene richiesto un servizio fotografico per comunicare sui social quello che è il nuovo assortimento disponibile in negozio tipico caso in cui vogliamo fare il lavoro meglio che possiamo perché è un contesto quasi da architetti perché comunque uno showroom che viene rinnovato ci sono delle persone che ci hanno lavorato c'è dietro uno studio sono potenzialmente delle foto che vengono fuori molto bene quindi vanno ad arricchire il nostro portfolio e quindi vogliamo farle al meglio delle nostre possibilità in realtà qualunque shooting vogliamo farlo al meglio delle nostre possibilità io questa cosa ve la dico sempre se c'è uno shooting per cui sentite di non voler dare il massimo è meglio se non lo prendete è uno shooting che uscirà con il vostro nome con delle immagini brutte di cui non siete orgogliosi quindi un po' avete perso tempo e un po' avete messo in giro qualcosa che vi qualifica quindi a meno che non vi stiano dando veramente una fracca assurda di soldi se c'è uno shooting che sentite di non voler portare a termine mettendoci tutto il vostro impegno io vi consiglio di non prenderlo e con questo direi che siamo arrivati alla fine a questo punto io vi chiedo c'è qualche aspetto in particolare di questo o di altri ambiti che ho trattato precedentemente sul canale su cui vorreste vedere approfondimenti datemi una mano vi aspetto giù nei commenti così andiamo a decidere insieme quali saranno gli argomenti dei prossimi video prossimi video che rischiate di perdere se non seguite subito questo canale vi consiglio di attivare anche la campanella perché io sono imprevedibile nella mia programmazione quindi se attivate la campanella siete tranquilli che non vi perdete niente visto che abbiamo trascorso insieme quest'ultima mezz'ora io suppongo di non starvi neanche troppo sulle scatole vi chiedo anche di mettere un bel like a questo video in maniera tale da aiutarmi un pochino con l'algoritmo di youtube signori io credo di avervi detto tutto e vi do appuntamento al prossimo video un pochino con l'anima